un'altra pillola può essere quella di un ripieno le cosiddette creme ganache dove all'interno di solito si fanno con panna e cioccolato zucchero e non sempre ma a volte del burro però ricordiamoci che il burro lascia quel sentore di intuosità in bocca che quasi sempre dà fastidio quindi per evitare questo problema si può usare il burro concentrato white che è un burro che non lascia quel sentore di intuosità ha un punto di fusione molto basso è un burro anidro e può essere veramente utile per dare una texture setosa in bocca e avere un gusto veramente pulito quindi far esplodere il gusto del cioccolato in questo caso questo penso che sia un piccolo dettaglio non da poco per fare veramente dei ripieni incredibili